Carlo Ninchi, nato il 31 maggio 1896 a Bologna, in Italia, è stato un attore italiano molto stimato la cui vita e carriera hanno attraversato i primi decenni del XX secolo. Il suo viaggio, segnato da conquiste artistiche e tragedie personali, riflette l'epoca tumultuosa e dinamica in cui visse. I primi anni di Ninchi furono segnati da un profondo amore per le arti, in particolare per il teatro, che lo portò a intraprendere la carriera di attore. Ha iniziato il suo viaggio teatrale nel vibrante panorama culturale italiano, affinando la sua arte sul palco prima di passare al mezzo emergente del cinema. Negli anni 20 e 30, Ninchi si affermò come una figura di spicco nel cinema italiano, noto per la sua presenza imponente e le sue interpretazioni ricche di sfumature. La sua capacità di incarnare una vasta gamma di personaggi gli evalsa il plauso e ha consolidato il suo status di uno degli attori principali della sua generazione. La tragica morte della moglie di Carlo Ninchi, Clara Calamai, nel 1937, segnò una perdita profonda e devastante nella vita dello stimato attore italiano. La prematura scomparsa di Clara getta un'ombra oscura sul mondo di Ninchi, lasciando un segno indelebile nel suo cuore e alterando per sempre il corso della sua narrativa personale. Clara Calamai, nata il 7 settembre 1909 a Prato, in Italia, era un'attrice di talento nota per le sue accattivanti interpretazioni sia sul palco che sullo schermo. Il suo percorso artistico si è intersecato con la vita di Carlo Ninchi, creando una partnership che si è stesa oltre l'ambito della connessione personale nel mondo collaborativo del cinema italiano. I dettagli che circondano la morte di Clara sono relativamente privati, protetti dagli occhi indagatori del pubblico durante un periodo di dolore inimmaginabile. Ciò che si sa è che la sua scomparsa è avvenuta inaspettatamente, mandando in frantumi la facciata idilliaca della loro vita insieme e gettando Ninchi negli abissi della disperazione. Per Ninchi, la perdita di Clara fu un terremoto emotivo, che scosse le fondamenta del suo mondo e lo lasciò alle prese con il peso opprimente del dolore. Il vuoto lasciato dalla sua assenza era vasto e insondabile, un ricordo costante dell'amore e della compagnia che avevano condiviso. In seguito alla morte di Clara, Ninchi si ritrovò alla deriva in un mare di dolore, lottando per navigare nelle acque agitate del suo dolore. I colori un tempo vibranti della vita ora sembravano attenuati e noiosi, mentre lottava per venire a patti con la dura realtà della sua assenza. L'impatto della morte di Clara si estese oltre i confini della casa familiare, influenzando anche la vita professionale di Ninchi. L'energia creativa che una volta fluiva liberamente ora sembrava soffocata, mentre era alle prese con il tumulto emotivo che minacciava di consumarlo. Nonostante il passare del tempo, la ferita lasciata dalla morte di Clara non si rimarginò mai del tutto. Il suo ricordo rimase una presenza inquietante nella vita di Ninchi, un ricordo costante dell'amore che avevano condiviso e dei sogni che un tempo avevano osato sognare insieme. La tragedia della morte di Clara Calamai è diventata parte integrante della storia della vita di Carlo Ninchi, aggiungendo profondità e intensità alla narrazione del suo viaggio. La sua memoria è viva nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta e amata, una testimonianza del potere duraturo dell'amore di fronte anche alla più grande delle tragedie. L'impatto della Seconda Guerra Mondiale segnò ulteriormente la vita di Ninchi, poiché l'Italia fu coinvolta nel conflitto. Gli anni della guerra portarono sconvolgimenti all'industria cinematografica e attori come Ninchi si trovarono a fare i conti con un tumultuoso periodo di incertezza. Il costo personale della vita in tempo di guerra, insieme ai più ampi sconvolgimenti sociali, hanno lasciato un segno indelebile nelle esperienze di Ninchi. Nel dopoguerra Ninchi continuò a lavorare nel cinema italiano, dimostrando la sua versatilità in diversi ruoli. Le sue performance hanno avuto risonanza tra il pubblico, riflettendo la complessità della condizione umana e il duraturo spirito di resilienza di fronte alle avversità. Nel corso della sua carriera, l'impegno di Ninchi per la sua arte è rimasto incrollabile, anche quando ha dovuto affrontare sfide e tragedie personali. La sua dedizione all'arte della recitazione, unita alla sua capacità di dare vita ai personaggi con profondità e autenticità, hanno consolidato la sua eredità come uno degli attori italiani più rispettati. Il 25 novembre 1974 Carlo Ninchi muore a Roma, lasciando dietro di sé un'eredità che continua a ispirare generazioni di attori e registi. Il suo contributo al cinema italiano continua a testimoniare il potere della narrazione e l'impatto duraturo del talento e della dedizione di un uomo sulla scena mondiale.